Francesco modello di pace e di fraternità e l'immagine del poverello di Assisi riletta oggi alla luce delle drammatiche vicende in Medio Oriente e in Ucraina che occupano giornali e televisioni e che oggi Assisi in occasione della festa del Santo ha offerto al mondo già dall'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia quest'anno toccata alla regione Sicilia. Francesco rappresenta tante cose, il perdono e la riconciliazione il ricucire un tessuto sociale, cioè la pace, partendo dalle piaghe di Gesù Crucifisso cioè da una rottura, da un'offerta di amore, da un'apertura del cuore che Francesco riceve con le sue stimmate. La Sicilia è terra ospitale, ha sottolineato il custode del Sacro Convento fra Marco Moroni intervenuto all'inizio della celebrazione in Basilica e lo è anche con i migranti che approdano sulle coste in cerca di una vita migliore. Francesco è andato a parlare con il musulmano, con il Saladino e dunque per noi significa Mediterraneo, significa i migranti che arrivano, che muoiono che chiedono disperatamente di essere accolte e di avere futuro. Nel pomeriggio nella chiesa inferiore della Basilica la celebrazione dei Vespri Pontificali e la processione che concluderà l'intensa giornata.